Offrire la propria mano d'opera in cambio di sconti o esenzioni delle proprie tasse o dei propri debiti col fisco. E' questa, in grandi linee, la proposta di quello che viene definito baratto amministrativo, che il Movimento 5 Stelle di Teramo propone all'amministrazione comunale. Già la nostra proposta sull'assegno civico, dal quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta al sindaco Brucchi, questa è una proposta complementare e tra l'altro non serve neanche una copertura economica, perché l'articolo 24 del decreto sblocca Italia prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono individuare dei criteri e stabilire delle riduzioni o esenzioni per la Tasi e per la Tari per quei cittadini che si adoperano per ripulire la città e fare manutenzioni del verde pubblico. Anche in un contesto in cui il Comune dice di non avere i soldi per fare queste operazioni, allora noi chiediamo che lo possano fare i cittadini e che abbiano degli sgravi, perché insomma numerosi cittadini si sono già attivati. Gli interventi per la riqualificazione del territorio da parte dei cittadini singoli o associati possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, assistenza alle scolaresche, spalamento della neve o interventi di decoro urbano. Se la proposta dei 5 Stelle venisse presa in considerazione e attuata dall'amministrazione comunale, non solo si potrà contribuire a rendere più bella e pulita la propria città, ma chi è in difficoltà economica potrà avere la possibilità di risparmiare su tasi e tari. La città ha bisogno di risposte concrete, quindi noi diciamo al sindaco basta parole, basta annunci, venga in Consiglio Comunale a redigere insieme a noi questo regolamento per far finalmente risparmiare i cittadini virtuosi.